L'Eurospintores continua nel suo percorso netto in campionato. Dopo il 2-0 di Monza ecco il 4-0 caseringo sull'Atalanta per il settimo successo consecutivo su altre tante gare. Le sasseresi in tenuta bianca hanno faticato a fare centro solo nella prima frazione. Poi nella ripresa sono arrivate tre retti che hanno dato protezione importante alla vittoria teresina. Nel primo tempo, dopo un'occasione di stracchi, deviata in angolo da Coppiera e Bergamasco, ecco il vantaggio al 36esimo. Ispiratrice Giannella, marcatrice Giulia Domenichetti al primo gol stagionato. Nella ripresa con il vento alle spalle L'Eurospint si distende e gioca meglio. Al 14esimo Tona colpisce il palo su calcio franco. Al 19esimo arriva il 2-0 nell'azione migliore della gara. Domenichetti serve alla corrente Valenti che va al cross. Giannella non manca il bersaglio. Al 27esimo il tris. Giannella, protagonista, entra in aria e regala il pallone del 3-0 a Silvia Fuselli. Entrano ora in gioco le italo-americane, Catiana ed Erika Vitanza. La prima segna il 4-0 definitivo con un tiro secco e preciso all'incrocio dei pali, sul quale nulla può riportire in ragione. Per l'Eurospint continua la marcia solitaria in vetta alla Serie A. Grazie. Grazie. Grazie.